Benvenuti a Loquendo Interviste, oggi intervisteremo Dark per X, scusate la pronuncia, ma Loquendo non lo legge bene X di 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 bene. Benvenuto. Salve Pruiz TV, salve fans, sono pronto a rispondere a tutte le domande che mi porrai. Molto beeeeen X, molto beeeeen X. Come hai conosciuto Pruizman? Beh. Lui mi ha inviato la richiesta d'amicizia e si è iscritto al mio canale, io ho ricambiato tutte e due le cose e siamo diventati subito amici. Quanti anni hai? 13. Come hai avuto successo? Non lo so X di cioe faccio video lol, sto alla gente, la faccio divertire, sono molto gentile non come certi youtuber e poi viva gli ASD. Ti piace Samp? Se sì in quale server giochi? Cazzo certo che mi piace Samp, in molti server, BRS, ZFK, ecc. Hai mai fatto film con Grand Theft Auto San Andreas? Se sì quali? Certo che li ho fatti XD, che domande sono queste ASD? Beh. Ho fatto il poliziotto buono che ha riscosso successo, a breve la seconda serie, la maledizione degli ASD, tra poco la seconda parte ed è piaciuta a molti, la rivelazione di Dino, che ha riscosso un grandissimo successo, forse non la continuo più XD. Vabbè ultima cosa ti piace Pruiz TV. Mi piace molto, anche l'idea del reality, grazie Pruiz TV per avermi fatto fare un saluto tutti i miei fans, e Dino97Guy, ciao guaglio!